Una lunga sequenza di furti d'acqua, soprattutto sulla condotta Gela-Aragona, che mette in ginocchio la foritura idrica al comune di Licata, furti che si starebbero intensificando e per questa ragione a breve potrebbe tenersi un vertice tra i sindaci dei territori coinvolti, non solo Licata ma anche Palma di Montechiaro per quanto riguarda l'Agrigentino e Gela e Butera per la zona del Nisseno. La vicenda inoltre sembra destinata a finire sui tavoli delle prefetture di Caltanissetta ed Agrigento. La situazione sta diventando molto grave nell'area licatese con una drastica riduzione dell'approvvigionamento idrico per le utenze domestiche. A Licata la situazione idrica rimane difficile. Ci sono zone come l'area residenziale posta sulla collina dove l'acqua è arrivata ieri dopo 11 giorni, ma la media di distribuzione non è inferiore a 4-5 giorni. Ciò malgrado dalla settimana scorsa la dotazione idrica si è aumentata di 15 litri al secondo. Il sindaco Giuseppe Galanti ha chiesto ai dirigenti acque e alla società di sovrambito, cioè Sicilia Acque, una conferenza di servizi che preveda, scrive il Comune, un aumento della fornitura idrica giornaliera e dove ne fosse motivo acclari le cause che determinano le attuali disfunzioni. Uno dei motivi, se non addirittura principale, secondo una nota ricevuta dal Comune da Sicilia Acque, è già stato anticipato al sindaco. La scorsa settimana dei rappresentanti di Girgenti Acque va individuato nel perdurare dei furti di acqua di notevole portata lungo la condotta Gela-Aragona. Fatto questo che produce inevitabili ripercussioni negative sul servizio di approvvigionamento idrico a favore della città, comportate inadeguate e turnazioni poco rispondenti alle esigenze dell'utenza cittadina. Questi atti delinquenziali, sostiene la società idrica Girgenti Acque, riducono significativamente la disponibilità del gestore di sovrambito con conseguenti limitazioni nella fornitura idrica ai serbatoi comunali, impedendo di conseguenza la corretta esecuzione della distribuzione dell'acqua nel Comune di Ricata, determinando limitazioni e slittamenti delle turnazioni previste. Anche in questi ultimi giorni, Girgenti Acque ha registrato una fornitura idrica ai serbatoi comunali di Ricata rispetto a quella richiesta alla società di sovrambito inferiore, comportando il mancato raggiungimento dei livelli ottimali di risorsa idrica nei serbatoi comunali, non consentendo quindi un'adeguata distribuzione in tutto il Comune. Girgenti Acque, consapevole della grave problematica che riguarda i furti d'acqua denunciati da Siciliacque, facendo appello alle autorità competenti, ha evidenziato ancora una volta che l'attuale dotazione idrica non è sufficiente per garantire la corretta distribuzione nel Comune di Ricata, invocando un sinergico intervento risolutivo per contrastare il dilagare di tale increscioso fenomeno delinquenziale che danneggia l'intera comunità licatese.